Siamo all'interno della cantina Guerriere Rizzardi, è un'azienda storica di Bardolino che da più di 300 anni produce vino. Me ne occupo con mio fratello, mio fratello è l'enologo, io sono l'amministratore dell'azienda. È un'azienda attiva da sempre nelle tre zone classiche della provincia di Verona, Bardolino, Valpolicella e Suave. Ci troviamo all'interno della sede principale. Sono molto contento di associare il mio marchio al marchio Porsche, ovviamente Porsche è sinonimo di tecnologia, di tradizione, di performance. E in qualche maniera mi sento di associarmi molto volentieri a questo marchio perché in qualche maniera anche noi cerchiamo di fare il massimo di quello che possiamo fare oggi con i nostri vigneti e la nostra tecnologia. Però dall'altro lato siamo molti attenti a quello che sono le tradizioni di questo posto. Spero che lasci il segno e sono molto curioso di vedere tante macchine qua e penso che sicuramente la cornice del lago, la cornice di Bardolino e nel nostro piccolo guerriere Rizzardi ci siano assolutamente tutti quegli elementi che rendono un evento unico. Penso che assolutamente non mai come oggi sia importante il fatto di unire queste cose perché ormai cerchiamo di promuovere un'esperienza più di vendere un prodotto. E quindi in qualche maniera poter venire due giorni al lago di Garda, nella fattispecie venire a Bardolino, poter assaggiare la nostra tradizionale cucina, poter vedere quello che sono i nostri bellissimi luoghi. E quindi in qualche maniera per due giorni avere questa esperienza, lago di Garda, Bardolino, vino, cucina, penso che sia molto 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 importante, interessante e che sarà assolutamente un successo.